Investi nel risparmio! Il tuo shopping ti regala il 30% di sconto. Approfitta dell'imperdibile promozione. Per ogni tuo acquisto riceverai in regalo un esclusivo buono sconto del 30% che potrai utilizzare a partire dal prossimo mese. Porta a casa tutto il meglio dello sport, ad un prezzo incredibile. Per maggiori informazioni rivolgiti al nostro personale di negozio.